A presto sul gruppo il ciocco, ci sei tu no? e allora fatti scrivere, abbiamo amicizia di te, e non dobbiamo fare una nota, e perchè lì sei amizzata su tutto no? al ciocco comunque, si, tangheri da bracci senza confetti, e da bracci senza confetti Maria 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.